Accoglienza migranti, la normativa sta cambiando, la diocesi di Como e Sondrio si dice preoccupata. Proseguire come prima alle nuove condizioni è impraticabile. Non usa giri di parole Don Fabio Fornera, vicario episcopale per la pastorale, nella missiva inviata a tutti i parroci che riassume gli esiti del confronto tra il vescovo Oscar Cantoni e la Caritas sul tema dei flussi migratori. Ad oggi sono circa 400 nel territorio della diocesi i richiedenti asilo che trovano ancora ospitalità nelle strutture attivate da comunità parrocchiali, parrocchiali, congregazioni religiose, associazioni laicali. 200 i volontari, 60 gli operatori. Si è intervenuti, recita la nota del Consiglio Caritas della diocesi di Como, per sopperire alle necessità delle strutture pubbliche e spesso si è stati accusati di fare i nostri interessi, dimenticando che ci siamo occupati di profughi e migranti su richiesta a volte pressante di governi, prefetture e amministrazioni locali che sapevano di poter contare da parte nostra anche su un valido aiuto di volontari. Questo percorso, qui la critica diretta, è ora stravolto dalle conseguenze del decreto sicurezza e dai nuovi bandi delle prefetture per l'accoglienza dei richiedenti asilo sul territorio. Il cammino di cura delle persone, di mediazione e di integrazione, che finora ha contraddistinto il nostro impegno, sia per la riduzione del contributo giornaliero sceso da 35 a 21 euro, sia per i nuovi vincoli imposti dai bandi, ora è compromesso. Si tagliano l'insegnamento della lingua, l'assistenza psicologica, la formazione professionale e le attività sociali. L'accoglienza, insomma, prosegue la diocesi, si trasforma in sorveglianza, in un servizio similcarcerario che non guarda all'inclusione. Proseguire su questa strada a queste condizioni ci risulta impossibile. Auspichiamo che lo Stato si assuma le sue responsabilità e che questo non favorisca operatori ai margini della legalità. Le cooperative della Rete Caritas, in Valtellina Opera, Altra Via, valuteranno a breve l'eventualità di partecipare o meno ai nuovi bandi, in un'ottica comunque di ridimensionamento del numero degli operatori, che non basteranno così affronteggiare i tanti bisogni in crescita, non solo i richiedenti asilo, ma anche le tante altre situazioni di fragilità che rischiano di cronicizzarsi. Che fare? La Caritas preannuncia l'impossibilità delle proprie cooperative e associazioni di dare continuità, visti i nuovi bandi, a tutte le accoglienze in essere, ma invita operatori e volontari a non ridurre l'impegno sul territorio. Si cercherà di accompagnare i richiedenti asilo che sono nella fase conclusiva del loro iter. L'appello alle comunità è di andare avanti, servono aiuti di tutti i tipi, dice la Caritas, dagli alloggi ai beni di prima necessità, per i migranti così come per tutte le persone fragili italiane e straniere. Nessuna parrocchia resti con le mani in mano.